Sì, noi chiediamo a tutti di fare molta attenzione, stanno venendo installati in questo momento, anche in questo momento, dei cartelli informativi proprio per avvertire la cittadinanza della presenza di questi strumenti, cosiddetti semafori intelligenti, cioè dei sistemi di rilevazione ai semafori con telecamere che rilevano alcune tipologie di infrazioni. Noi abbiamo riscontrato che ci sono state purtroppo molte molte e io ritengo giusto che i cittadini vengano informati proprio per evitare la sanzione, perché lo scopo di questi impianti deve essere quello di evitare gli incidenti, infatti sono collocati tutti gli incroci diciamo pericolosi valutati dalla mobilità e dalle autorità competenti come appunto pericolosi e forieri di incidenti, spesso anche gravi. Noi vogliamo evitare gli incidenti, ma vogliamo anche far sì che i cittadini non prendano multe ingiustificate, quindi devono essere tutti informati. Il primo step è appunto quello di montare i cartelli informativi, stanno venendo montati 33 cartelli. Il secondo step sarà quello, ove possibile, dalle attuali normative, di quello mettere i cosiddetti countdown, cioè degli strumenti che avvertano la durata del semaforo per evitare le frenate brusche ed improvvise che possono anch'esse essere pericolose, quindi dobbiamo attivare questi strumenti per cercare di evitare anche questo pericolo. Sono circa sette le zone attualmente coperte con semafori intelligenti, ve ne ricordo alcune. Quella diciamo più famigerata, la cui io vi chiedo di fare più attenzione possibile, è quella di via Cantore San Bartolomeo del Fossato, che è una zona dove ci sono un'alta incidenza di sanzioni causate dalla cosiddetta errata canalizzazione, ovvero si incanella nella corsia sbagliata e quindi si procede andando avanti dritto al posto di girare, di svoltare a sinistra in via San Bartolomeo del Fossato. Cercate di rispettare il codice della strada alla perfezione e fermatevi prima della segnaletica sia orizzontale che verticale che vi avverte quali sono le norme da rispettare.